Ciao a tutti, oggi andremo ad imparare come si fa a fare una nuvola in Blender. È molto semplice, quindi seguitemi. Innanzitutto dovete aprire il vostro Blender, dopodiché procediamo, andiamo sotto File, User Preferences, e dovete cercare sotto la lente di ingrandimento la parola Cloud. Object Cloud Generator, deve essere sottolineato con un visto, e poi Save User Settings. Benissimo, chiudiamo tutto. Dopodiché dovremo procedere con la quarta ultima icona, fatta a forma di chiave, Add Modifier, e cercheremo il terzo ultimo icona. Dovremmo fissare View A2 e Render A3, dopodiché cliccheremo il bottone Apply. Cliccato appunto questo bottone, potremo andare avanti, e ci avviciniamo. Dopodiché andiamo in una visualizzazione Edit, cerchiamo di visualizzare le facce, e nell'icona che vedete, Enable, e dopodiché potremo appunto prendere in considerazione alcune facce. Ne prendo in considerazione alcune, e svolgerò le mie modifiche del caso. Voi potete prenderne anche altre in considerazione, l'importante è di cambiare un po' la forma, perché le nuvole appunto sono irregolari, come si sa. Ne ho prese alcune, e le modifico secondo un asse che mi sembra opportuno, in questo caso potrò modificarle in senso orizzontale, se volete anche in senso verticale, dipende un po' da voi, da com'è la vostra fantasia, da come vedete le nuvole, dipende da voi. Io mi sono un po' sbizzarrita, ho cercato un po' di trovare delle alternative, perché diciamo che sono ancora in una fase sperimentale, ho fatto anche cose un po' folli, se volete, ma volevo essere un po' creativa, e non trovare una soluzione così tanto ovvia, perché mi sembrava noioso, e così ho provato diverse soluzioni. Alla fine la cosa più intelligente da fare è veramente modificarle la nuvola in senso orizzontale. Dopodiché sono andato a vedere la pancia di questa nuvola, ho selezionato le facce che mi interessavano, e le ho a sua volta modificate. È interessante per me vedere queste forme nuove, voi potete, scusate, suonano, potete ancora modificare le forme, appiattire un po', allargare, o rimpicciolire, dipende un po' da voi. Andando avanti vi suggerisco di andare sotto l'opzione Object Mode, e di schiacciare il tasto sotto Shading Smooth, in modo tale da ottenere una nuvola molto morbida. Sotto Create potrete trovare Cloud Generator, Cloud Generator, e va benissimo l'opzione Smoothing, e vi consiglio di lasciare Status. Dopodiché applicherete. In questo caso vedrete che all'interno del parallelepipedo ci sarà la nuvola che interessa a noi. guardiamo con la telecamera, vi consiglio di applicare N, di schiacciare il tasto N, Lock Camera to View, dopodiché potete anche chiudere schiacciando di nuovo N. Andate sotto Blender Render, e modificate i colori. Vi consiglio di cliccare sotto Paper Sky e Blender Sky, e dopodiché applicerete i colori che preferite. Io ho scelto un colore azzurro per Zenith Color, e per il colore orizzontale potrete scegliere per esempio un bianco o un rosa, se avete intenzione di rappresentare un tramonto. Dopodiché potrete cliccare le opzioni che vi interessano di più per quanto riguarda la telecamera. Vi consiglio 100%, l'opzione 100%, che vi farà in modo di visualizzare tutti i pixel per bene. Dopodiché possiamo rappresentare un sole, quindi potrete aggiungere un sole e metterlo appunto all'orizzonte, metterlo appunto in alto, scusate. Con questo diciamo che il mio tutorial è concluso, se avete delle domande mi raccomando chiedetemi. Ciao a tutti, un bacione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.